Ripartiamo! Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Oh, finalmente dopo tanto tempo siamo di nuovo qui su questi schermi in questa modalità. Ho ripreso lo sfondo dello studio, ho ripreso la fotocamera, il microfono e via. Sono molto felice di ricominciare con il canale anche se l'attività non è mai stata interrotta del tutto. Avevo in mente questo video già da un bel po' di tempo anche perché come tutti ho sottovalutato il periodo e l'entità di quello che stava succedendo e sarei aspettato nel giro di due tre settimane di poter riprendere come se niente fosse. In realtà poi ho visto che le cose si stavano dilungando, che iniziavano a saltare tutti gli eventi di aprile, poi maggio, poi l'estate, insomma quello che è. E mano a mano che andava avanti il periodo di quarantena e di chiusura forzata andava a consolidarsi dentro di me l'idea di come sarebbe stato il periodo successivo, di come sarebbe stato ricominciare. Ancora non è possibile fare eventi, feste, DJ set al pubblico, però iniziamo ad avere i presupposti di quello che sarà il futuro. È un momento storico quello che stiamo vivendo e niente sarà più come prima, ci sarà necessariamente un prima e dopo questo inizio di 2020. È bene cercare di sfruttare per quelle che sono le potenzialità di questo momento. Ogni crisi porta delle opportunità e sembra un po' una frase fatta ma in realtà è un concetto molto importante da perseguire. È bene fare un reset vero e proprio e cercare di prendere il buono di quello che succede o di quello che succederà. E così nel ripartire è bene scegliere anche perché non potremo ripartire con tutto fin da subito. E allora fare una piccola selezione delle situazioni e dei contesti è il primo passo. Ma soprattutto l'opportunità che ci troviamo di fronte quando andremo a ricominciare davvero è quella di non ripetere gli errori del passato. In molti di noi non hanno potuto usufruire dei contributi dedicati ai lavoratori dello spettacolo. E il perché lo sappiamo? Sappiamo quali sono le caratteristiche del nostro mondo, del nostro ambiente. Ecco che possiamo partire a cominciare da domani a fare le cose per bene, a fare le cose secondo le regole, a fare le cose nel modo giusto, più corretto possibile. Ecco che coloro i quali non hanno potuto usufruire dei contributi messi a disposizione dall'Inps, invece di continuare a lamentarsi e continuare a portare avanti il loro dente avvelenato, potrebbero imparare la lezione. Indipendentemente dal fatto che si voglia essere o si debba essere dei professionisti o meno, capire laddove vale la pena e laddove no. Capire che meglio fare un evento ma come si deve, che farne dieci così, senza nessun tipo di regolamentazione, andando in barba a tutte quelle che sono le le basi della correttezza a partire dai colleghi ma anche verso tutti i tipi di professionisti. Ancora ci siamo troppo dentro, non è facile, non ha neanche molto senso cercare di capire davvero cosa è successo e perché, però saremo chiamati presto a ricominciare e allora è bene farlo con l'approccio giusto. Senza entrare troppo nelle tematiche sociali però c'è un aspetto importante per quelli che sono purtroppo una situazione di oggettiva difficoltà e che veramente dovranno ancora faticare a lungo perché anche se ci sono delle misure a disposizione non sarà facile e non è neanche così scontato che riescano veramente a superare questo momento. Bene, allora noi cerchiamo di non essere, di non approfittare di questa situazione, di non fare gli stronzi, detto proprio brutalmente, stavo cercando dei giri di parole però alla fine è bene chiamare le cose con il loro nome. È inutile dire ah no guarda sono in cassa integrazione non ti posso fare la fattura, ecco. Soprattutto in un momento in cui ci sono tante persone in reale difficoltà non mettiamole noi stesse in difficoltà cercando di prevaricare gli altri il lavoro e soprattutto la dignità e allora cercare di collocarsi nel giusto modo soprattutto in una situazione di crisi generale dalla quale ne usciremo a fatica nel corso del tempo. In questo periodo c'è c'è chi l'ha sfruttato a dovere, ne abbiamo parlato molto durante le live della settimana e si è preparato, si è preparato con nuova musica, ha sperimentato, ha creato qualcosa di nuovo, ha provato a portare avanti dei progetti. Qualcosa andrà avanti, qualcosa semplicemente sarà stato un tentativo però adesso è il momento di mettere in pratica o quantomeno di iniziare a mettere in pratica. Io ancora sarei molto cauto, cercherei di lavorare con pazienza, di sfruttare queste settimane che ci separano dal fatto di poter essere in movimento, al poter effettivamente fare qualcosa di concreto nel mettere a punto ciò che abbiamo preparato in questi mesi, nel continuare a seminare, nel continuare ad avere pazienza, evitare le sparate, evitare le lamentele, evitare di ricominciare a criticare gli altri, ecco se c'è una cosa bella che è emersa è stato un briciolo di solidarietà e allora questa portiamosela ancora dietro per un po'. Come vedete le considerazioni sono tante e siamo veramente soltanto all'inizio di questa nuova fase. È una nuova fase per tutti e ci saranno dei locali che non riapriranno, ci saranno dei locali che cambieranno completamente, ci saranno delle nuove avventure che inizieranno dalle ceneri di ciò che è stato e ecco che in questi momenti è interessante avere un po' d'occhio, cercare di capire quale sarà la nuova tendenza, cercare di portarla avanti e di anticiparla se vogliamo. E questo è l'augurio che ti faccio, continua a seguirmi o inizia a seguirmi su questo canale, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e chiunque sia, qualunque sia il momento che sta vivendo, un grande augurio, un abbraccio e a presto.